Il signore un giorno ci indossa a premiano, ma piena fiducia sa aspettare, il giornalino aspettano perché non lo sceglieranno, non so come capta una cosa, non so se gli eventi, cosa c'è domani, seguendo giù, tutti i carabbi, o meno frutta, non so come capta una cosa. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.